Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV, e come ben saprete sul mio canale le energy drink non mancano mai. Le sto acquistando veramente tutte, certo me ne mancano ancora un bel po', ci sono molte bevande strane che ho intenzione di portare sul canale, ma non per questo non significa che io non possa dare spazio ad altre bevande che invece sono già note, da parer mio fantastiche e che meritano una certa attenzione. Ragazzi, la bevanda che ho in mano si chiama VR46, ed è una bevanda davvero particolare. VR sta per Valentino Rossi, e 46 è il suo numero diciamo, perché, ebbene sì, questa bevanda è stata ideata in onore al pluricampione di MotoGP Valentino Rossi, che io stimo parecchio, è uno dei miei tanti idoli e spero un giorno di incontrarlo dal vivo. Ebbene, questa è la sua bevanda, è appena uscita dal frigo, è fresca, e direi subito di visionare il design, perché è davvero interessante. Ragazzi, guardate questa bevanda, non è fantastica. Prima di concentrarci sul fronte direi di guardare bene il retro. Qua, infatti, non solo possiamo leggere una storia proprio dedicata al nostro Valentino Rossi e su come è nata la bevanda, ma troviamo anche la firma del nostro motociclista preferito. Infatti, Valentino Rossi, e qui c'è la sua firma stampata. Come sempre, se noi guardiamo il fronte della lattina, possiamo notare quanto è vivace il suo colore. Infatti, viene tanto a richiamare il casco di Valentino Rossi. Guardate che colori sgargianti. Dallo sfondo di questo giallo fluorescente, e dal simbolo della Monster, che invece è di un giallo un pochettino più scuro. Sotto troviamo il sole e la luna, e la scritta The Doctor, questi non possono mancare. E qua in alto troviamo scritto VR46, e troviamo ancora il simbolo del sole, ed è la luna. Qua il bordo è nero, e niente. Lattina veramente particolare, unica nel suo genere. Davvero, non vedo l'ora di assaggiarla perché questo mi incuriosisce. Ragazzi, eccoci qua con un bicchiere pulito. Direi subito di versare la bevanda all'interno del bicchiere, ma prima di iniziare ci tengo a precisare una cosa. Io, in passato, assaggiai già questa bevanda. Però, veramente, è passato molto tempo. Si parla del lontano 2014. E da allora non l'ho più provata. Tra che mi è stato difficile reperirla, e tra che ho preferito cercare altre bevande. Allora, apriamo la bevanda, che fa un fumo veramente intenso. E versiamola qui dentro. Ancora un po', ragazzi. Ha fatto veramente tanta schiuma, quindi versiamone giusto ancora un po'. Ragazzi, guardate che colore intenso. Non è il classico giallo di tutte le energy drink che conosciamo. Se voi guardate con attenzione, questo colore è così intenso da perdere la sua trasparenza. Non è più limpido. Non si vede più attraverso il bicchiere. Sembra quasi limonata, vi giuro, uguale. La limonata, stessa cosa. Anche l'odore, appunto, di tale bevanda sa di limonata. Perciò avevo ricordi ben differenti, appunto, di questa bevanda. Quindi, riassaggiarla è una piccola riscoperta. Quindi, non perdiamoci in chiacchiere e assaggiamola subito. Ragazzi, ricordo benissimo il giorno in cui questa bevanda ha spopolato veramente in tutti i supermercati. Era nel lontano 2013, era estate e davvero. La prima volta che l'ho vista il design proprio non era passato inosservato. Poi, solo nel 2014 ho avuto l'occasione di bere questa bevanda, che è rimasta in commercio per un pochissimo tempo. Dopodiché è un po' sparita, nel senso non è stata più commercializzata così tanto. Bisogna dire che invece, però, negli ultimi anni è stata ripubblicizzata ed è ricomparsa in tutti i supermercati. Quindi la potete trovare con una facilità assurda. Direi quindi di assaggiarla perché veramente voglio riscoprire questo sapore. Ragazzi, cosa dovrei dire di questa bevanda? Che è sensazionale, è ottima. Praticamente voi provate a unire aranciata e limonata insieme. Ecco, il sapore è quello ma molto molto migliorato. Perché è davvero un gusto totalmente unico. Si fa fatica, anzi per niente si riesce a distinguere il limone dall'arancia. Sono due cose uniche, proprio fuse in un unico sapore. E veramente, questo è una sensazione, qualcosa di veramente fenomenale da tutti i punti di vista. Poi, un'altra cosa da dire, che non è frizzante. Io ho provato aranciata, ginger o comunque quel genere di bevanda e non ce n'è stata una che avesse poca frizzantezza o che comunque non lasciasse tutta quella frizzantia o quella proprio in bocca. A me non piace molto. Invece, questa bevanda qui è frizzante ma al punto giusto. Perché appunto, una volta assaggiata, si sente proprio l'intensità del sapore. Quindi per me è ottimo. Comunque è un voto molto molto positivo. Complimenti. C'è però da dire una cosa. Questa bevanda resta comunque una energy drink. Quindi, mi raccomando, fate molta attenzione a quanta ne consumate. Perché davvero, ok che è buona, ok che sa di aranciata. Può sembrare una bevanda qualunque. Ma in realtà resta pur sempre una energy drink. Ci sta dentro sia la caffeina che la taurina e che gli zuccheri. Quindi, attenzione, non esagerate. Soprattutto se siete un pochettino più piccoli o più giovani, attenzione a non mischiarla con l'alcol. O comunque, evitate di assumerne in quantità eccessive. Ricordo che gli adulti, se sanno equilibrare la propria alimentazione, i propri pasti, possono bere fino a una lattina. Da 250 ml, ricordo, perché questa è da mezzo litro. Quindi, attenzione. Al massimo la tenete per il giorno dopo. Così vi resta, ragazzi. Io concludo qui questo video. Se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un like. Commentate. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E mi raccomando, seguitemi sempre. Perché porterò nuovi contenuti legati sia ai videogames che all'energy drink. Perché davvero, sono alla ricerca di nuove bevande, solo ed esclusivamente per voi. Noi ci becchiamo al prossimo video da Tuccio TV. Ciao.